La provincia di Frosinone tende una mano alla cittadinanza, sempre più confusa sulle normative ambientali, specialmente per quel che riguarda il riscaldamento domestico. Attraverso la sua società APEF, cioè Agenzia Provinciale Energia Frosinone, ha aperto uno sportello al pubblico in grado di fornire informazioni ed assistenza ai cittadini, alle imprese e dai comuni in relazione alle opportunità che la normativa europea, nazionale e regionale offrono nel settore energetico ed ambientale. Un tassello importante è quella che è la politica sull'ambiente che sta mettendo in campo l'amministrazione provinciale negli ultimi anni, nella consapevolezza che il nostro futuro passa per gli investimenti, le azioni e le attenzioni in materia ambientale. Tante sono state le iniziative da parte dell'amministrazione provinciale, oggi aprire questo sportello vuole rappresentare un punto di riferimento per cittadini e amministrazioni e aziende del nostro territorio. L'ufficio vuole essere un punto di incontro tra cittadini, imprese ed enti per mettere a valore tutte le opportunità che la normativa nazionale e regionale danno in merito all'efficientamento energetico. C'è grande interesse anche a seguito del decreto rilancio per il super bonus, ma sono tante le provvidenze e le misure che incentivano questo settore. Il conto termico 2.0, il sisma bonus, l'ecobonus, quindi queste opportunità spesso però non vengono colte dai cittadini e dalle imprese ma anche dagli enti perché vi è una complessità nelle procedure e soprattutto scarsa informazione. Quindi l'ufficio, lo sportello ambiente, servirà proprio per dare queste informazioni e supportare laddove possibile i cittadini, imprese ed enti nella realizzazione di queste opportunità che, come ho detto, vengono messe in campo. Lo sportello dell'ambiente credo che sia una iniziativa fondamentale per rendere ancora più stretto il rapporto che c'è tra cittadini, imprese e ente e creare questa collaborazione anche in vista delle nuove normative nazionali.